Siamo aperto stamattina a Palermo lo SMAO sulle innovazioni con le più moderne start-up siciliane, il servizio. 20 start-up siciliane sul palco che presentano al pubblico il loro prodotto o servizio in 90 secondi. Imprenditori, organizzazioni e giovani talenti che fanno rete e condividono progetti innovativi nati in Sicilia. È quello che va in scena nella tappa palermitana della fiera dell'innovazione SMAO. In risalto le iniziative più all'avanguardia in settori di punta come il turismo e l'agroalimentare. Tra queste Smart Island, start-up di Niscemi che ha sviluppato un sistema informatico per l'agricoltura di precisione capace di prevenire le malattie delle piante. Ma c'è anche spazio per tecnologie digitali in altri ambiti, come Chemonia River, giovane impresa di Palermo, che ha creato un dispositivo per favorire la creatività musicale dei non vedenti, o come la Fondazione Istituto Giglio di Cefalù, che ha lanciato Ospedale Risponde, un format di comunicazione sanitaria su Facebook. Durante l'evento, l'assessore alle attività produttive della regione, Mimmo Turano, ha annunciato la pubblicazione imminente di un bando dedicato alle start-up innovative in Sicilia, con fondi per oltre 40 milioni di euro. Maurizio Di Lucchio, TGR Sicilia.